al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è il tema di oggi. In breve, cosa sono i dialoghi ricostituenti? Sono un percorso che noi facciamo attraverso 50, ma forse saranno di più, gli incontri perché magari a qualche punto richiederà degli approfondimenti ulteriori, ma insomma per un anno e più di un anno noi cercheremo di fornire al dibattito pubblico e magari anche alla strumentazione legislativa dei suggerimenti, partendo dal presupposto che le due cose si intrecciano, vale a dire certi limiti della Costituzione rendono difficile l'esercizio del potere esecutivo e anche quello del Parlamento e che le decisioni legislative e la politica rende impossibile lo sviluppo di una società democratica fondata sullo Stato di diritto. Andremo tra breve al referendum che mutila il Parlamento di centinaia di deputati e senatori, gettati fuori secondo l'intenzione dei legislatori, dei Cinque Stelle per primi, ma anche degli altri che hanno votato a favore, buttati fuori in quanto fannulloni e riducendo così la rappresentanza della sovranità popolare. questo il tema di oggi e passo la parola a Simona Viola che introduce la discussione e poi ad Alfonso Cerotto che porrà le prime domande ai nostri ospiti che sono il professor Sabino Cassese e la professoressa Sofia Ventura. Grazie mille Marco, grazie a chi ci sta ascoltando. Oggi è, come Marco ci ha detto, la prima puntata di cinquanta incontri, cinquanta dialoghi ricostituenti su altrettanto temi della Costituzione. Oggi cominciamo dal numero uno, articolo uno. l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, come ci ha ricordato poco fa Marco Taradas e continua l'articolo uno. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Alfonso Celotto, insieme con Marco Taradas, mi coordina con me questa serie di incontri, solleciterà i nostri ospiti a ragionare insieme sull'attualità e sul senso di queste norme. Norme che appaiono particolarmente significative in un momento in cui tanti equivoci girano in Italia sul tema della sovranità. Il partito più sovranista d'Italia era al governo, la Lega insieme nel governo Conte I, il partito più populista d'Italia è al governo oggi nel Conte II e un sacco di persone sono convinte che la sovranità sia il diritto di un paese di fare quello che gli pare. Forse vorremmo ragionare oggi insieme sul fatto che questa parola invece ha un significato più ampio e allo stesso modo quando parliamo di una sovranità che appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione, mi angoscia oggi come presidente dell'Assemblea di Più Europa a pensare ai limiti pressoché invalicabili che oggi ha una forza politica come Più Europa nell'accesso alle competizioni elettorali. Oggi il nostro popolo elettore non potrà probabilmente trovare sulla scheda forze politiche come Più Europa né alle amministrative né alle politiche a causa dei limiti di accesso pressoché invalicabili che sono stati introdotti è uno dei temi che pongo alla vostra attenzione. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti e a tutti i nostri ascoltatori ricordo che parallelamente all'iniziativa dei dialoghi ricostituenti Più Europa ha costituito sotto la guida del professor Stefano Rolando Un laboratorio liberal democratico che a partire da questi incontri, dal loro contenuto, dalle idee, dagli stimoli che arriveranno farà degli approfondimenti in una logica diciamo così seminariale o di laboratorio. Chiunque fosse interessato ad avere informazioni o ad iscriversi al laboratorio liberal democratico di Più Europa non deve far altro che scrivere una mail a lablib.piocciolapieuropa.eu Lascio la parola ad Alfonso Celotto e successivamente ai professori Cassese e Ventura. Ciao Alfonso! Grazie, grazie presidente. Io ringrazio te, ringrazio Più Europa di questa occasione che mi è stata data di riflettere sulla Costituzione. Per me è anche un onore aprire un dibattito del genere sull'articolo 1, ci starei volentieri due o tre ore, anche perché io sull'articolo 1 ho pensato che vorrei scriverci un romanzo e non un saggio. L'articolo 1, in fondo, è l'unico articolo che fu dettato all'Assemblea Costituente dal referendum istituzionale, perché Repubblica Democratica era necessariamente quella che dovevo scrivere i Costituenti e infatti il progetto di Costituzione redatto e consegnato il 31 gennaio 47 si limitava lì, l'Italia è una Repubblica Democratica, punto. Poi si discusse ampiamente con tutti i retroscenni e le cose che sappiamo per capire se fosse fondata su qualcosa quest'Italia, no? Sui lavoratori, su pace e giustizia, su Dio, sul lavoro. E quindi è un articolo affascinante che proprio il passato, il presente e il futuro della nostra Costituzione. Ed è per questo che io non devo dilungarmi troppo su temi del genere, ma mi fa piacere avere due visioni così autorevoli e di origini così diverse, perché giustamente un giurista e una politologa ci possono dare le due visioni dell'articolo 1. Quindi cedo molto volentieri la parola al professor Cassese. Grazie. Grazie Alfonso. Nell'articolo 1 ci sono molte parole che sono ricche di diversi significati. Intanto la parola Repubblica, tu hai parlato di Repubblica, come se fosse esclusivamente l'opposto di monarchia. In realtà la parola Repubblica ricorre, se io non ricordo male, circa 70 volte o 72 volte addirittura nella nostra Costituzione e non sempre vuole indicare, anzi nella maggior parte dei casi non indica il contrario della monarchia, indica qualcosa di diverso e cioè l'ordinamento complessivo. Quindi questo è un primo significato, come dire, nascosto di quest'articolo 1. Il secondo aspetto è quello relativo alla sovranità. Ora, nella Costituzione il fatto che la sovranità appartenga al popolo vuol dire che non appartiene allo Stato e quindi è la negazione della concessione corrente dei sovranisti. E poi il fatto che si possa esercitare nelle forme e nei limiti della Costituzione vuol dire che il popolo non deve decidere tutti i giorni, ma deve decidere tutte le volte che la Costituzione indica il popolo come titolare di un potere. e quindi fondamentalmente quando si tratta di scegliere i propri rappresentanti e quando si tratta di esprimersi direttamente attraverso quello che noi chiamiamo un referendum. I limiti che la Costituzione prevede che lo Stato possa adottare sono limiti che gli Stati adottano come decisioni condivise dello Stato e di altri Stati e su questo poi si intrattengono gli altri articoli della Costituzione. Però il quadro non sarebbe completo se noi non dicessimo che già gli stessi Costituenti ritennero, basta citare il discorso finale di Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente, ritennero che la prima parte della Costituzione fosse una parte presbite e che poi la seconda parte fosse invece miope. cioè ritennero che nella seconda parte si addensassero delle difficoltà, dei problemi irrisolti. Addirittura, se non ricordo male, Piero Calamandrei disse a un certo punto che il problema principale che deve esserci in una Costituzione, in questa Costituzione non c'è. Ed era il problema della stabilizzazione dei governi. problema che a quell'epoca veniva giustamente visto in una delle due forme, o quella di forme presidenzialistiche o quelle di forme parlamentaristiche razionalizzate. E questo è il vero problema che ha dominato la Costituzione fino adesso. Io però non posso dimenticare un'altra cosa che tutti, ahimè, dimenticano ed è il fatto che la Costituzione è stata per un verso stravolta ed è stata stravolta proprio nei punti che avrebbero incidenza sulla sovranità popolare e per un altro verso dimenticata. Comincio dalle norme dimenticate della Costituzione. La Costituzione parla dei consigli di gestione. La Costituzione parla delle comunità di lavoratori e di utenti. La Costituzione parla dello Stato che promuove l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dei grandi sistemi produttivi del Paese. Ora, pensateci un po'. Questi tre elementi, i consigli di gestione, le comunità di lavoratori e di utenti e l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dei grandi sistemi produttivi del Paese, non riguardano proprio il popolo, non riguardano proprio le forme nelle quali il popolo può esprimersi e quindi esprimere la propria sovranità. E pensate un momento a quanto potrebbe essere oggi il nostro Paese diverso da quello che noi conosciamo se invece di esserci delle grandi centrali sindacali nazionali che hanno rifiutato i consigli di gestione, ci fosse una mitbestimmung alla tedesca, in fondo il grande successo dell'industria tedesca è quello del manifatturiero e lo si deve alla coesione di padroni e lavoratori nelle aziende. Se ci fossero state le comunità di lavoratori e di utenti di cui parla l'articolo 43, se non ricordo male della Costituzione, comunità di lavoratori e di utenti, cioè di produttori e di consumatori, e se invece di avere un grande debito pubblico e un grande risparmio privato avessimo avuto una canalizzazione del risparmio privato, come prevede la Costituzione, ai grandi sistemi produttivi del Paese. Pensate ad esempio, per fare un esempio concreto, tutte quelle norme che si stanno accumulando sul cosiddetto golden power, cioè questa catena produttiva, questo nuovo colbertismo che si sta creando, questa rete protettiva nei confronti dell'industria italiana. Ce ne sarebbe bisogno se ci fosse una potente partecipazione popolare alla proprietà dei grandi sistemi produttivi del Paese. E questo per un verso. Mi taccio tra un secondo, ma voglio citare ancora per l'altro verso la Costituzione stravolta. Ma il CSM è un organo di autogoverno della magistratura. Ma è vero che la magistratura si autogoverna? Ma chi l'ha detto? Dove è scritto nella Costituzione che il CSM è un organo di autogoverno, cheppure è una cosa che ricorre in tante definizioni del CSM. Il CSM è semplicemente uno scudo. Il CSM è semplicemente un modo per assicurare che il potere esecutivo che avrebbe dovuto gestire e che aveva gestito fino allora la carriera dei magistrati attraverso i giudici non influenzasse la giustizia. Quindi mettere un scudo tra la gestione dei giudici e la gestione della giustizia. Isolare i giudici perché attraverso il governo delle carriere ti do un posto qui o ti do un posto lì non si esercitasse una pressione per la decisione dei processi, per l'amministrazione della giustizia. Ora, pensate in questi termini al CSM e pensate a quello che è diventato oggi il CSM. Quindi, scusate questo discorso che si è allargato dall'articolo 1 a uno sguardo generale a tutta la Costituzione. Secondo me l'articolo 1, che è la pietra fondante della nostra Costituzione, va visto alla luce del testo complessivo e va visto alla luce a dei difetti del testo complessivo. Io ho prima citato Piero Calamandrei, ma devo citare anche Massimo Severo Giannini. Giannini è stato il capo di gabinetto di Nenni. Nenni era il ministro per la Costituente. E' la persona che, pur non membro dell'Assemblea Costituzionale, ha praticamente preparato tutta la Costituzione italiana. E Giannini l'ha ripetuto mille volte i punti di forza della prima parte e i punti di debolezza della seconda parte della nostra Costituzione. Quindi una Costituzione che nasce forte e debole, che guarda lontano per un verso ed è invece guarda troppo vicino per l'altro. Una Costituzione, una volta si diceva tradita perché non veniva attuata, ma dobbiamo dire di nuovo tradita, perché ci sono parti della nostra Costituzione che sono totalmente ignorate. Nel dibattito politico si è parlato mai dei consigli di gestione. Eppure ci lavorò Morandi, ministro dell'Industria, una delle persone più intelligenti che avesse il governo in quell'epoca lì. E c'è un progetto di legge sui consigli di gestione che non ha mai visto la luce. E così le comunità di lavoratori ed utente, c'è qualche oscuro giurista che se ne interessa, ma non sono mai diventate una realtà. E infine ci sono capitoli della Costituzione. Ecco, alla luce di tutto questo si capisce che cosa voglia dire questa espressione la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Perché? Perché per il primo verso la sovranità appartiene al popolo vuol dire non bisogna essere sovranisti. perché non appartiene allo Stato, perché i sovranisti parlano della sovranità dello Stato, non della sovranità del popolo. E per altro verso nelle forme e nei limiti, perché le forme e i limiti non sono solamente quelli della democrazia politica, non sono la voce del popolo, non si serve sentire soltanto attraverso le elezioni, rappresentanza, la democrazia rappresentativa o il referendum democrazia diretta. Perché c'erano altre voci del popolo che dovevano essere raccolte, i consigli di gestione, le comunità di lavoratori e di utenti, quella partecipazione popolare attraverso la proprietà, ai grandi sistemi produttivi del paese, bellissima espressione, grandi sistemi produttivi del paese che probabilmente risale all'ispiratore economista che stava dietro a De Gasperi in quegli anni. Ecco, tutto questo dà l'idea della ricchezza di quest'articolo 1 in cui si riassume una varietà di partecipazioni del popolo alla vita dello Stato e quindi si capisce il significato di quell'espressione, altrimenti in qualche modo contraddittoria. Prima si dice che la sovranità appartiene al popolo e poi si dice che ci sono delle forme dei limiti e se ci sono delle forme dei limiti alla sovranità siamo nella presenza di uno simolo perché che cos'è il potere sovrano? È il potere che non riconosce un potere superiore e quindi stabilire che il sovrano è il limitato vuol dire qualcosa di simile alle parallele convergenti. Se sono parallele non convergono, se convergono non sono parallele. Ecco, spiegato in qualche modo la ragione di questo apparente ossimolo dell'articolo 1 con uno sguardo complessivo su tutta la Costituzione e scusatemi se ho fatto un discorso un po' troppo lungo ma ci voleva. Grazie, grazie professore perché ci ha ricordato una cosa che sembra non scontata fra le altre. Cioè molto spesso si dice che il popolo eserce la democrazia soltanto attraverso gli istituti di democrazia diretta e quindi il referendum, un costituzionale abrogativo, l'iniziativa legislativa popolare che poi sappiamo è un istituto un po' negletto e altre cose sono rimaste lì, la petizione, quindi che la democrazia diretta sia troppo debole e quindi bisogna inventare nuovi strumenti di partecipazione di sovranità, referendum elettronici e tante altre cose che sappiamo. Invece giustamente la Costituzione aveva un tessuto più ampio, non tanto disattuato, aveva dimenticato ormai in quell'ottica di esercizio e partecipazione della sovranità. Anche quello è un tema importante guardando al passato e guardando al futuro. Quindi, grazie per queste suggestioni e passiamo alla professoressa Ventura. Grazie. Grazie e grazie dell'invito a questa discussione, a questa chiacchierata. E io appunto cercherò così di fornire brevemente qualche riflessione su questo primo articolo appunto dalla mia prospettiva che è quella quella della scienza politica e giustamente il professor Cassese ci ha parlato delle norme che sono state dimenticate, delle norme che sono state stravolte e questo ci porta al tema di come la Costituzione diciamo, quella che viene chiamata la Costituzione materiale che però appunto sarebbe meglio fare riferimento a come alla dimensione vitale della Costituzione, come ha funzionato la Costituzione, come è stata fatta vivere nei decenni e ancora come viene fatta vivere oggi e l'approccio appunto diciamo del politologo, del scienziato politico è quello di andare a vedere come gli attori dentro alle istituzioni agiscono e quindi fanno vivere quelle istituzioni. se mi si permette una piccola battuta su una cosa che insegniamo spesso nei corsi di scienza politica agli studenti appunto la fase iniziale degli studi di scienza politica che prendevano il nome di comportamentismo quindi behaviorismo come appunto andare a vedere i comportamenti effettivi all'interno delle istituzioni ed è proprio andando a vedere i comportamenti effettivi all'interno delle istituzioni e quindi anche di come è stata fatta vivere dicevo la costituzione noi ci rendiamo conto di quanto già una costituzione che aveva in sé degli elementi di difficoltà sia stata fatta vivere con ancora più difficoltà e oggi la situazione è tale che come dicevo prima dell'inizio di questa nostra conversazione tra i presenti io comincio a avere anche qualche dubbio sul fatto che riforme delle istituzioni o anche riforme costituzionali possano incidere sui comportamenti che potremmo dire altamente disfunzionali degli attori politici oggi quindi comincio con una diciamo una riflessione un po' un po' pessimista una riflessione un po' pessimista che riguarda ovviamente anche il modo in cui diciamo nei fatti viene interpretato l'articolo 1 il professor Cassese ci ha già detto a proposito della sovranità io passo subito al secondo capoverso cioè la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme nei limiti della costituzione allora della sovranità ci ha parlato il professor Cassese giustamente ci ha detto che si tratta della sovranità del popolo e non dello Stato quindi in questo modo ci ha già risolto il problema del rapporto con con i sovranisti ma appunto c'è l'altra parola che è problematica specialmente alla luce appunto della politica non soltanto italiana ma delle nostre democrazie contemporanee cioè il popolo il popolo che cos'è no? appunto oggi è problematico il tema perché è sovrapposto al concetto di populismo e quindi allora come noi nella realtà interpretiamo questo concetto di popolo ecco una parte di forze politiche in Italia e non solo in Italia tende quasi alla Rousseau a interpretarlo come volontà generale e abbiamo anche un partito al governo che si ispira a Rousseau tanto che ha la propria piattaforma che serve appunto dovrebbe servire per prendere decisioni collettive all'interno del partito che si chiama che si chiama Rousseau quindi il popolo è una volontà generale magari una volontà generale che si incarna in un capo che la esprime questa è esattamente la cifra del populismo questo è il populismo quindi è chiaro che non è questo il popolo che è preso in considerazione dai costituenti e che quindi ci ritroviamo nella nostra costituzione quello del richiamo al popolo è un principio di legittimazione fondamentale che appunto è diverso da una legittimazione tipo monarchica divina eccetera però questo popolo e così andiamo anche agli altri concetti non può tutto innanzitutto questo popolo si esprime come diceva il professor Cassese nelle forme e nei limiti della costituzione quindi questa volontà non è una volontà generale ma è una volontà che concretamente prende forma attraverso degli strumenti specifici quindi pensiamo al voto alle modalità di voto come si vota e come il voto viene poi tradotto in eletti e così via quindi già c'è questo elemento poi ci sono appunto anche altre forme sta ciò citato il referendum però sono tutte forme previste però io volevo anche rispetto a questo appunto a queste parole nelle forme e nei limiti della costituzione che abbiamo perso Simona lo conosco un po' in parti quindi magari il professor Cassese o Alfonso Celotto mi diranno se la mia è un eccessivo allargamento però il popolo che esercita appunto la sovranità nelle forme e nei limiti della costituzione significa anche che il popolo non può tutto quindi anche il potere che viene esercitato in nome del popolo è un potere che ha dei limiti e sono appunto i limiti quei limiti che abbiamo grazie a tutta la tradizione del costituzionalismo quei limiti che ci derivano dalle costituzioni dall'interpretazione delle costituzioni quindi anche dal ruolo delle corti costituzionali e dei famosi check and balances quindi appunto da diversi poteri che si bilanciano e limitano a vicenda e sono appunto quei limiti che rendono possibile tutti quei diritti che ritroviamo per esempio nella prima parte della nostra costituzione anche di Giuseppe Maranini affrontando in un suo famoso libro della fine del 69 di storia del potere in Italia e parlando appunto della parte dedicata ai diritti diceva sì questi diritti appunto quella parte dedicata ai diritti liberali se mi consentite è resa possibile innanzitutto non solo dalla loro enumerazione ovviamente ma dal fatto che esistono delle garanzie perché il potere il potere politico il potere di governo è un potere limitato e quindi quel potere di governo che trova la propria legittimazione nel popolo è un potere limitato quindi io diciamo che in questo passaggio ci vedo anche un richiamo importante alla dimensione del garantismo detto questo quindi il popolo che esercita appunto la sovranità nelle forme e nei limiti della costituzione ecco il tema rilevante è oggi non solo come tutto ciò accade attraverso le forme previste il voto il referendum come abbiamo detto ma è rilevante e quindi appunto qui metto anche un po' l'approccio da politologa capire questo popolo come come forma le proprie opinioni perché non c'è soltanto la possibilità di esprimere la propria volontà attraverso il voto il referendum o appunto altre forme di partecipazione popolare ma il tema diventa ed è un tema che è molto dibattuto oggi come si formano le opinioni e e qui allora molto brevemente due sono le questioni importanti il ruolo dei partiti politici e il sistema dei media allora relativamente al ruolo dei partiti politici che sono quelli che più di altri danno forma al modo di funzionare delle istituzioni quindi anche alla vigenza o meno o al tipo di vigenza della costituzione beh insomma si parla da tanto tempo ormai di crisi dei partiti e se vogliamo però diciamo rimanere aderenti un po' al discorso anche più costituzionale rimando faccio un attimo un salto all'articolo 49 cioè in realtà l'articolo 1 diventa problematico cioè di difficile attuazione nella misura in cui l'attore principale quello che è stato nella democrazia dai primi processi di democratizzazione ad oggi cioè il partito è disfunzionale non è in grado di esercitare le proprie funzioni che sono a loro volta funzioni essenziali della democrazia e quindi l'articolo 49 richiama ovviamente la modalità democratica che almeno posso interpretare in questo modo questa modalità democratica attraverso la quale dovrebbero funzionare i partiti politici ora in realtà i partiti politici hanno funzionato nelle democrazie anche non attraverso modalità pienamente democratiche o democratiche future questo lo sappiamo però hanno funzionato tant'è che oggi richiamare la democrazia interna dei partiti per dare anche proprio una forma una forza alla sovranità popolare sarebbe importante non tanto è un po' paradossale cosa che dico però non tanto il nome della democrazia però il nome perlomeno di un qualche principio di funzionamento perché i nostri partiti non funzionano più e questo è molto è molto chiaro cioè se noi andiamo a vedere da Movimento 5 Stelle al Partito Democratico è Forza Italia forse un po' meno vero per la Lega ma in realtà ormai è molto vero anche per la Lega i nostri partiti non hanno più modalità di funzionamento che siano anche gerarchiche autocratiche oligarchiche no è il caos e l'arbitrio a seconda degli equilibri di potere momentanei quindi a questo punto recuperare il discorso sull'organizzazione interna dei partiti e sulla loro democraticità prima ancora di avere un valore per il valore democratico ha un valore perché almeno è un principio è un principio di funzionamento quindi appunto all'articolo 1 andrei a collegare anche l'articolo 49 e comunque il discorso del funzionamento dei partiti perché i sistemi politici appunto sono il frutto del funzionamento degli assetti istituzionali e del modo in cui si comportano gli attori politici oggi questi attori politici che sarebbero al cuore della democrazia sono completamente sbrindellati danno spazio a forme di personalismi macro e micro come noi sappiamo molto bene che tra l'altro rischiano di portarci e questo accade di frequente nel nostro paese ma non solo nel nostro paese verso quella concezione di popolo che non è quella liberale costituzionale ma è quella appunto populista di popolo come volontà generale poi su questo mi fermo non voglio prendere troppo tempo però c'è l'altra dimensione che però è più difficile da affrontare non dico in punta di diritto però in punta costituzionale quello del sistema mediatico sul quale sicuramente bisognerebbe però intervenire perché oggi le opinioni pubbliche le opinioni pubbliche anzi che coesistono in una stessa comunità si formano sostanzialmente attraverso il sistema dei media dalla stampa alla radio alla televisione al web e questo cosa cosa significa innanzitutto che i partiti hanno perso questa capacità diciamo di produrre flussi di informazione idee di socializzare la politica tutto questo avviene attraverso i media ma i media ormai funzionano sempre di più attraverso e impongono alla politica la loro logica che è la logica mediatica dello spettacolo e quindi non il modo in cui si forma nell'opinione dipende da un sistema che ha come obiettivo per capirci lo dico brutalmente il profitto non la democrazia cioè il sistema dei media ha come obiettivo l'audience l'infotainment il sistema ma anche i giornali inseguono l'audience inseguono i gusti popolari cioè anche i giornali sono diventati populisti come i leader in questo senso gli inseguono il profitto inseguono la possibilità di vendere pubblicità e questo è vero per i giornali questo è vero per le televisioni nel web anche nel web sappiamo benissimo che tutto questo funziona in maniera anche esponenziale e molto più complessa questo cosa vuol dire che il sistema dell'informazione quindi anche dell'informazione politica della formazione politica è sostanzialmente in mano a chi gestisce strumenti che non hanno come obiettivo la vera e propria informazione politica o anche la formazione politica ma semplicemente diciamo la creazione di consensi che sono consensi di audience ormai più che di cittadini informati come si può intervenire su questo molto complicato ci sono sappiamo benissimo forme di controllo sull'agicom insomma forme di controllo sul sistema dei media sui telegiornali però ci sono ormai delle forme veramente di detournement di stravolgimento del funzionamento del sistema dell'informazione pensiamo al fatto che moltissimi giornalisti hanno degli agenti cioè hanno lavorano con agenzie che curano la carriera del giornalista così come la carriera dell'attore o del cantante spesso appunto hanno attori, cantanti giornalisti se ne stanno tutti nella stessa agenzia questo cosa vuol dire? vuol dire che l'informazione politica diventa sempre più una forma di spettacolo e però è attraverso questa forma di spettacolo che si formano le opinioni e quindi la volontà popolare diventa in qualche modo l'espressione anche di questo gioco di questo spettacolo lo hanno detto in molti però nel caso italiano ne aveva parlato molto bene Sartori in videocrazia quindi io per ora mi fermerei su queste suggestioni poi magari vi lascio posso chiedere un approfondimento perché ci sono alcuni punti che mi hanno suscitato grande attenzione intanto abbiamo appurato eravamo tutti d'accordo credo prima ma è bene chiarirlo che la sovranità non appartiene allo Stato questo nel nostro paese non è affatto chiaro penso la sovranità allo Stato dovrebbe essere un servizio per i cittadini e non il contrario questo punto in una riforma costituzionale forse dovrebbe essere chiarito meglio secondo me perché la tradizione italiana fascista prima e poi della partitocrazia alla fine ci ha convinto che i cittadini siano strumenti di operazioni che poi si rivolgono a un bene superiore che in un modo o nell'altro va a ricadere nello Stato il discorso che faceva il professor Cassese a proposito della partecipazione dei cittadini al sistema produttivo e la Costituzione se non sbaglio dice anche in termini molto chiari attraverso le azioni cioè partecipazione azionaria vale a dire investite sulle aziende allora nazionali oggi il discorso diventerebbe diverso però una facilitazione significherebbe che bisognerebbe pagare più tasse sui bot piuttosto che sul reddito azionario invece sul reddito finanziario invece nel nostro paese vale il principio opposto perché lo Stato appunto ha aggregato dentro di sé il massimo delle risorse possibili e in questo modo fa sempre alleggiare lo spettro della patrimoniale ripetendo in continuo che è vero che abbiamo un debito pubblico molto alto ma abbiamo un risparmio privato altrettanto alto questo certamente favorisce l'utilizzo del denaro privato a finalità pubbliche in senso lato cioè lo sviluppo della produttività del nostro paese e poi c'è le altre due questioni uno quello della stabilizzazione del sistema dell'esecutivo della governabilità si diceva un tempo oggi si è perduta anche questa parola ma insomma rafforzare l'esecutivo e in questo modo consentire anche al Parlamento di svolgere il suo lavoro perché l'esecutivo così debole è così debole che ha espropriato anche il potere del Parlamento non avendo la forza di fare di prendere le decisioni e poi la riforma dei partiti l'articolo 49 in un sistema in cui i partiti sono stati sostituiti da da oligarchia allora noi abbiamo un grande problema che vi pongo quello del finanziamento della politica del finanziamento dei partiti anche perché io ad esempio alcuni di noi sono di tradizione radicale hanno partecipato al referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti però non volevano spogliare i partiti di forza economica volevano trovare il modo che la forza economica si raccogliesse intorno alle volontà privati e a servizi forniti allo Stato invece si è tolto il finanziamento pubblico si sono tolte anche i rimborsi elettorali alla fine si cerca di depauperare al massimo i contributi ai gruppi parlamentari si cerca di risparmiare sulla democrazia allora questi sono alcuni problemi dei media parleremo magari successivamente che già appaiono allora la domanda è che fare il professor Cassese aspetta vorrei aggiungere interrompo un altro il professor Cassese che so che poi il professor Cassese ci lascerà tra qualche minuto volevo aggiungere un'altra domanda così paradossale ovviamente che impossibile ma se lui avesse in dieci minuti così la penna per riscrivere l'articolo 1 no no come lo riscriverebbe domanda impossibile senti dunque provo provo a fare qualche riflessione su quello che siamo detti senza forse rispondere direttamente la parola democratico ricorre nell'articolo 1 ma ricorre altre due volte anche non ce lo dimentichiamo quando si parla dei sindacati e quando si parla dei partiti si parla dei sindacati e si dice che i sindacati debbano avere un'organizzazione interna base democratica e che i partiti debbano concorrere con metodo democratico quindi sostanzialmente la democrazia ha queste due grandi basi dello Stato perché sono le due basi le due grandi organizzazioni sociali al momento della della Costituzione e si chiede di avere una democrazia interna all'uno o una democrazia esterna all'altro anche se durante il dibattito costituente si dava per scontato che dovesse esserci una legge sui partiti che prevedesse anche un ordinamento interno a base democratica tutto questo è cambiato e quindi sono cambiate le basi della democrazia per due motivi primo perché i sindacati si sono affermati sulla base di un ordine concettuale che fu poi disegnato da Giugni in un famoso libro sull'autonomia collettiva nel 1962 o 60 come un'organizzazione sociale esterna all'ordinamento dello Stato sostanzialmente del concetto di autonomia collettiva e poi lentamente sono diventati da sindacati dei lavoratori sindacati dei pensionati e quindi persone che non lavorano ma sono invece come dire finanziati dallo Stato sulla base di un diritto che hanno acquisito naturalmente per quanto riguarda i partiti non ci dimentichiamo che i partiti hanno una base sociale che oggi è un ottavo della base sociale degli iscritti voglio dire che è un ottavo di quella che era nel 1946 48 essendo il numero degli dei cittadini italiani la popolazione italiana aumentata di almeno 10 milioni rispetto allora quindi noi stiamo parlando oggi di un'entità quella dei partiti ma la professoressa Ventura l'ha detto molto chiaramente prima un'entità che sostanzialmente dovendo essere il tramite tra la società e lo Stato è più un'organizzazione statale che un'organizzazione sociale va bene cioè i partiti sono più organi dello Stato che organi della società ora questo è una trasformazione radicale della nostra democrazia perché quella promessa che c'è nell'articolo 1 e che dovrebbe trovare un come dire uno sviluppo nell'articolo 39 per i sindacati e nell'articolo 49 per i partiti non ha trovato questo sviluppo o se l'ha trovato l'ha poi perduto e quindi sono venute meno alcuni degli elementi fondamentali della base della democrazia è chiaro che poi tutto si lega a questo io vi compreso alla riscrittura dell'articolo 1 che tu mi chiedi caro Alfonso anche se questa è una domanda proprio a tradimento perché non è mica che uno da un giorno all'altro può riscrivere la Costituzione intanto probabilmente non metterebbe nessuno più di noi fondata sul lavoro e voi sapete che in realtà doveva essere una repubblica di lavoratori secondo una delle proposte e poi è diventata fondata sul lavoro per il fatto che è mutato il nostro concetto di lavoro basta far riferimento ai volumi di uno studioso italiano che vive in America Moretti e di Mimo De Masi in Italia insomma che hanno fatto i due studi fondamentali sul mutamento del concetto di lavoro quindi certamente una repubblica certamente democratica e poi certamente metterei nell'articolo 1 una cosa che tutti dimentichiamo che la democrazia non si esaurisce mica in rappresentanza e democrazia diretta quello che noi chiamiamo democrazia consiste anche in poteri contrapposti countervailing powers diceva Garbrandt va bene consiste anche in competizione Schumpeter va bene consiste anche nell'esistenza di poteri indipendenti perché l'ordinamento giudiziario è indipendente non è parte della democrazia e consiste anche in organi di controllo della democrazia la Corte Costituzionale che cosa fa se non controllare l'esercizio della democrazia da parte del Parlamento quando nei nove anni che sono stato alla Corte io dichiaravo insieme con altre 14 persone illegittime costituzionalmente delle leggi che cosa facevo? Mi mettevo al di sopra della democrazia quindi la democrazia è anche questo è anche strumenti di correzione dell'esercizio democratico del potere e questo andrebbe segnalato perché tutti hanno una concezione molto limitata della democrazia la democrazia comprende tutto questo comprende le autorità indipendenti comprende il fatto che vi sia l'autorità della competenza perché noi vogliamo che sia indipendente il professore universitario perché vogliamo che sia indipendente il chirurgo perché probabilmente ci fa delle operazioni migliori rispetto a un chirurgo che sia dipendente dalla democrazia perché lui non deve ascoltare la voce del popolo lui deve ascoltare la voce dell'esperienza che spiega che un'operazione chirurgica si fa in un modo o in un altro e questo si applica anche agli ingegneri perché nessuno di noi vorrebbe passare su un ponte costruito da persone elette democraticamente col 100% dell'appoggio popolare che però non siano ingegneri perché da quel ponte noi cadremmo insieme col ponte ecco diciamo questa concezione così che è la concezione della realtà delle democrazia in cui noi viviamo una realtà incompleta ma che è una realtà non solo democratica in senso stretto cioè di potere del popolo ma anche di potere sul popolo o potere contro il popolo va bene questa realtà è la realtà che noi in cui noi vogliamo vivere invece di una realtà nella quale ci rimettiamo alle volontà della maggioranza Tocqueville parlava della tirannide della maggioranza no? E perché parlava della tirannide della maggioranza? Perché aveva timore che appunto il popolo potesse sbagliare e quindi bisogna che vi siano dei correttivi nei confronti dei possibili errori del popolo capisco di aver dato delle risposte così un po' per aria non del tutto concrete alle specifiche domande che mi sono state poste vi dovete scusare molto ma purtroppo come avevo detto fin dall'inizio bisogna che scappi e vi lasci mi dispiace molto di non continuare questo questo discorso e però mi auguro che lo riprendiamo insomma quando volete naturalmente avremo mille altre occasioni professor Cassese la ringraziamo moltissimo grazie a voi grazie a voi buona serata grazie 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 prima di rilasciare il testimone a Sofia Vontura io sono molto grata al professor Cassese perché è proprio una prospettiva di lettura liberal-democratica dell'assetto dei poteri che è veramente opportuno mettere in luce il tema dei contrappesi dei poteri indipendenti delle autorità di controllo sono non per caso questo insieme di poteri di cui ci ha parlato Cassese particolarmente detestati e avversati sia dalla Lega che dal Movimento Cinque Stelle i cui profondi caratteri antidemocrati emergono di continuo io ricordo episodi sconcertanti del lessico politico del primo conte dell'inizio di questo governo mostruoso leghista e pentastellato quando i titolari delle posizioni di alcuni di questi importanti soggetti appunto come l'antitrust le autorità indipendenti venivano assolutamente insultati dai rappresentanti politici assurti a livello di governo e gli veniva detto fatti eleggere e poi dopo potrai dire quello che stai dicendo io ricordo la guerra contro Tito Boeri ricordo guerra e senza quartiere insulti alla magistratura a capi di importanti vertici della magistratura a cui veniva detto vai in pensione o fatti eleggere cioè come se l'investitura popolare derivante dal fatto di essere stati eletti comportasse appunto un esercizio di potere assoluto quindi scusa Simona posso usare queste tue parole per introdurre poi continua ma per introdurre una prima domanda Sofia Ventura tu hai parlato del mostruoso governo che attaccava le autorità indipendenti è fatto esempio di Tito Boeri il governo che gli è succeduto a mio parere non troppo meno mostruoso ha sostituito Tito Boeri con Pasquale Tridico che è una persona che molti diciamo valutano non all'altezza della conduzione dell'Inps e Tridico ha fatto proprie le volontà politiche da parte di un organismo che non è indipendente non è un'autorità ma che dovrebbe avere una sua autonomia e ha lavorato senza me mettere in discussione sulle riforme tra virgolette allora si legano le due cose da una parte il lato istituzionale costituzionale le autorità indipendente dall'altra parte la scelta politica Sofia Ventura esordendo ha detto io non ho fiducia nella non nella possibilità di cambiare la Costituzione nessuno è noi a grande fiducia in questo in questo momento ma nel fatto che cambiare la Costituzione possa guarire le malattie la malattia politica italiana ecco quando Simona Viola l'avrà finito su questo punto vorrei anche un chiarimento un approfondimento a parte non ho molto di più da dire si salda con quello che con quello che diceva Marco a me quello che preme tanto è che chi ci ascolta si renda conto di quanto questi poteri contrapposti indipendenti e di controllo facciano parte di un assetto liberal democratico di un ordinamento perché i poteri che si bilanciano sono una tutela e un antidoto all'autoritarismo e all'arbitrarietà ma a Sofia Ventura che ha messo l'accento in modo così significativo sul tema dei media dico una disciplina costituzionale dell'informazione non c'è c'è il diritto di espressione non c'è il diritto ad una ad una informazione completa in realtà è stato poco a poco elaborato dalla Corte Costituzionale che partendo dal diritto di parola lo ha poco a poco trasformato nel diritto a ricevere delle parole e delle informazioni che fossero ecco possibilmente che fossero complete integre e valide mi domando e le domando se una Costituzione contemporanea che riconosca alla comunicazione l'importanza che certamente non aveva negli anni della Costituente della prima Costituente non dovrebbe introdurre qualche cosa che oggi radicali chiamano il diritto alla conoscenza o che risponda al problema da lei posto cioè è quello della sostanziale strumentalizzazione della informazione per scopi o lei dice diciamo di lucro io penso peggio perché io penso per esempio che la RAI di FOA non distrugga e non distorca l'informazione per fini di lucro penso che lo faccia per fini politici che è peggio per certi versi perché non ha neppure diciamo così la foglia di fico del fine di lucro Sofia Ventura grazie no non si sente non si sente cara deve deve darci deve dare è un classico ormai questo la partenza in mute allora sulla questione che poneva Marco Taradash appunto l'idea che la malattia italiana possa non possa essere superata da riforme costituzionali istituzionali e questo mio pessimismo legato diciamo anche a decenni passati a provarci e uno poi il buon senso talvolta lo porta a dire vabbè adesso basta osservo e poi dopo vedo vedo quello che accade allora faccio faccio un esempio di questa di questa mia così di questo mio scetticismo il tema per esempio che era stato posto anche da 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 la stabilizzazione dell'esecutivo che poi è anche appunto prende anche nome di razionalizzazione del parlamentarismo no? Cioè tutte appunto quelli quegli interventi che sono stati che ritroviamo in particolare in molte costituzioni del successivo della seconda guerra mondiale per appunto che hanno in qualche modo cercato di riprodurre lasciatemela dire così un po' on home cercato di riprodurre quei meccanismi che si erano prodotti naturalmente nel Regno Unito no? Ecco la razionalizzazione del parlamentarismo può essere vista anche così come un tentativo di rendere più funzionale il sistema politico partitico e quindi più efficace l'azione e l'azione dei governi il rapporto governo-parlamento eccetera ecco noi conosciamo un caso dove c'è stata una riforma costituzionale radicale che è quella del passaggio della quarta alla quinta repubblica in Francia che è stato anzi è che è considerato quasi l'esempio per l'antronomasia della razionalizzazione del parlamentarismo e sicuramente questo ha prodotto un grande impatto sull'efficacia dell'esecutivo ma teniamo presente che lo ha prodotto anche perché a sua volta ha prodotto anche un impatto insieme ad altre regole norme come il sistema elettorale un impatto sul sistema dei partiti sul suo funzionamento quindi ha prodotto diciamo un processo molto molto complesso che si è nutrito diciamo dei suoi vari elementi e ha per lungo tempo oggi la Francia diciamo conosce una fase di crisi ma per lungo tempo garantito sicuramente stabilità ed efficienza dei governi però però è stata una riforma radicale che ha limitato non solo ha creato la figura una figura molto particolare che poi ha preso una forma particolare anche in virtù della presenza di De Gaulle ma ha limitato i poteri del Parlamento secondo una modalità che oggi sarebbe difficilmente accettabile tant'è che Sarkosino nel 2008 ha ridato spazio al Parlamento in particolare nella sua funzione di controllo quindi sì noi abbiamo un esempio che viene sempre riportato di una riforma efficace ma è stata una riforma presa possibile dalla presenza di De Gaulle radicale profondamente radicale fatta tra l'altro con metodi non completamente legittimi che ha limitato drasticamente l'azione del Parlamento oggi intervenire con metodi e contenuti un po' più soft rispetto a quella riforma mi chiedo se porterebbe a dei veri cambiamenti perché innanzitutto gli attori politici hanno imparato ad aggirare le norme in una maniera incredibile anche i sistemi elettorali per esempio e mi chiedo se purtroppo la realtà è che ad esempio un confronto il professor Cassese parlava anche della competizione una competizione di tipo bipolare se non bipartitica almeno bipolare una competizione tra alternative che sono tutte e due considerate legittime e dove non una parte considera l'altra al male assoluto e quindi considera la competizione come qualcosa che porterà alla guerra civile ecco questo è dato dalle regole o dagli attori che sono in gioco e poi è vero le regole anche come politologi sappiamo pongono vincoli e opportunità e quindi all'interno delle regole è possibile che si diciamo si sviluppino certi processi piuttosto che altri però le società democratiche contemporanee sono talmente complesse che il funzionamento della democrazia e l'abbiamo visto anche un po' in questa nostra conversazione è talmente complesso che davvero non bastano più quelle regole che attengono formalmente i rapporti governo parlamento perché per esempio anche oggi il Parlamento è completamente ignorato ma questo è dovuto alle regole poi magari non so chi ha più conoscenze giuridiche di me e anche più conoscenze del funzionamento delle Camere ce lo può dire meglio ma appunto questa marginalizzazione del Parlamento è dovuta più alle regole del funzionamento del Parlamento o più ai gruppi parlamentari gli attori che lo compongono in questo momento basta parlare con un funzionario dei gruppi legislativi di qualunque partito e vi dirà che ha a che fare sostanzialmente con dei personaggi imbarassanti no? Ecco e quindi allora il problema dov'è? Il problema allora è nel reclutamento ma allora il reclutamento è un problema che attiene ai partiti politici per questo io sono mi pongo delle domande del se quanto davvero certi certi interventi costituzionali a questo punto potrebbero potrebbero cambiare la situazione mi rivolgo a Marco Tardas pensa anche a una riforma in senso presidenziale o semipresidenziale della quale abbiamo discusso per tanti anni che abbiamo magari in varie forme sostenuto anche specialmente quella semipresidenziale beh pensiamo cosa potrebbe essere oggi avere un presidente che esca da uno dei due partiti populisti come probabilmente accadrebbe ecco allora però ricadiamo nel discorso del momento in cui nasce la costituzione che nessuno dei due partiti si fidava dell'altro loro costruirono regole che indebolivano il governo insomma è sicuramente un problema che non insomma siamo in un impasse sicuramente io però mi sto convincendo sempre di più che ci sono proprio quegli elementi che nutrono la democrazia le opinioni pubbliche il modo in cui si formano le opinioni pubbliche anche il modo in cui funzionano i partiti che 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 se rimangono così come sono non possono funzionare in nessun contesto istituzionale forse il meglio funzionante diciamo quindi è per questo sulla questione dei media io credo sicuramente io non sono un'esperta di questo però so che ci sono esperti di questo da noi nel nostro corso di mass media e politica abbiamo anche un corso che si occupa proprio di questi di questi temi sicuramente se non altro anche a livello di enunciazione perché almeno nel momento in cui si riconosce enunciando un diritto ad essere informati correttamente è un primo passo poi dopo è chiaro che bisogna individuare bisogna individuare anche le modalità attraverso questo in cui questo possa avvenire ma il problema è che oggi questo non è considerato un tema rilevante quindi anche soltanto riconoscerlo attraverso un riferimento costituzionale avrebbe già un senso ma anche responsabilizzare attori collettivi come per esempio l'ordine dei giornalisti già che esiste magari sarebbe meglio che non esistesse ma già che esiste già che esiste almeno avesse svolgesse un ruolo per esempio sul tema che ponevo prima delle agenzie e dei giornalisti che hanno una propria agenzia che io trovo una cosa assolutamente scandalosa ma tutti i maggiori giornalisti televisivi hanno dei loro agenti e quindi uno dice ma qual è il tuo mestiere allora sei lì per informare per fare spettacolo e quindi io ho messo molto l'accento sulla dimensione del profitto del lucro sono d'accordo che poi la RAI funziona anche anche forse soprattutto ma non solo la RAI ormai ce ne stiamo rendendo conto per diciamo mossa da motivazioni politiche però davvero non sottovalutiamo la dimensione dell'interesse perché poi le cose si mischiano molto perché poi comunque l'audience è sempre lì che devi specialmente nel campo televisivo forse meno ormai quello della carta stampata ma nel campo televisivo l'audience è fondamentale e quindi e quindi allora per esempio inviti Salvini quasi tutte le sere per mesi mesi anni e anni e poi ti scandalizzi che è diventato ministro dell'interno ecco come battuta finale di questa mia così riflessione non so se ho più o meno risposta altro che altro che io sono molto suggestionata dal suo discorso da giurista diciamo sentir dire quello che sembra veramente naturale pensare cioè che alla fine la realtà delle cose è fatta in parte da regole in parte da uomini da persone che la incarnano e quindi da questo punto di vista ci si potrebbe anche dire ma insomma ha tutto questo senso cambiare la costituzione scriviamo le norme costituzionali sono disattese Cassese narra di un costituente che aveva immaginato discipline di coesione sociale i consigli di gestione le comunità di lavori utenti era scritto non è stato non è stata data attuazione e quindi tutto sommato però questo discorso può condurre a pensare che anche la carta costituzionale sia alla fine vuota e inutile io invece questo non lo penso e penso che alla fine la corte costituzionale in parte ma anche la costituzione a prescindere dalla sua applicazione proprio giudiziaria abbia in parte plasmato il potere e abbia in parte plasmato il paese e la nostra storia ma in questo ci abbiamo perduto Simona intervengo nella panchina nel frattempo finché Simona non torna vai tu Alfonso no no io apprezzavo molto ovviamente tutto il discorso dei partiti è chiaro che i costituenti Simona ti avevamo perso poi ti recuperiamo va bene sono entrato dalla panchina e poi ti ti ricedo la parola allora il discorso dei partiti sicuramente i costituenti il comitato il comitato di liberazione nazionale è roba basata sui partiti e quindi hanno scritto una costituzione basata sui partiti ovviamente il partito si è evoluto e lo sappiamo e dobbiamo ricordarlo però un altro tema che hai affrontato ed è molto interessante è quello delle riforme no? perché noi in Italia siamo malati di riformite cioè vuoi fare tante riforme propone riforme legislative e costituzionali e poi ti accorgi che spesso le riforme non funzionano hanno un lungo tempo di aggiustamento e spesso poi portano risultati peggiori della norma originaria io ricorderei visto che siamo parlando di riforma costituzionale le tre riforme approvate le più grandi non solo il titolo quinto ma l'articolo 68 sull'immunità e l'articolo 79 su amministi e indulto sono tutte riforme che hanno dato risultati peggiori della norma originaria no? quindi bisogna andare cauti a fare riforme in questo senso sono d'accordo anche perché noi abbiamo una corte costituzionale che era stata pensata come l'arbitro che dicesse solo sì o no alle leggi e invece nell'evoluzione del sistema di potere è diventato non solo l'interprete privilegiato ma è diventato una specie di potere costituente perché ovviamente per restare a casi recenti la costituzione italiana non parla di eutanasia però avendo una corte costituzionale accentrata e forte il problema di eutanasia arriva alla corte costituzionale e la corte costituzionale ti rivede la costituzione c'è la luce dei principi costituzionali ti aggiunge l'eutanasia e di esempi del genere potremmo farne decine sull'evoluzione della costituzione quindi ovviamente la corte costituzionale incide meno invece sul rapporto fra i poteri perché la corte è più la corte dei diritti che non la corte dei poteri ecco che allora un'idea una riforma dei partiti del presidenzialismo potrebbe servire anche se bisogna andarci cauti con le riforme questa era la mia perplessità nel dibattito Simona ti rivediamo pronta no era solo volendo concludere chiedevo a Sofia Ventura ma se la norma costituzionale sui partiti fosse più prescrittiva e sanzionatoria e fosse meno diciamo così ordinatoria e immaginifica i partiti devono avere un ordinamento democratico e se non ce l'hanno che succede? possono continuare a fare come se nulla fosse cioè io ricordo ancora con scandalo e stravolgimento la terribile il terribile momento di formazione del conte due quando professoressa Ventura se lo ricorderà sulla piattaforma russo il popolo dei cinque stelle votò se i gruppi parlamentari potessero o meno prestare il consenso al presidente della Repubblica Mattarella sulla formazione del governo cioè una cosa raccapricciante sul piano costituzionale no? ecco però la costituzione non ha costituito un muro un argine non c'è stato un argine costituzionale neppure alla violazione da parte del Movimento Cinque Stelle della regola del divieto del vincolo di mandato il vincolo di mandato è inserito nei regolamenti parlamentari e neppure i presidenti delle camere li hanno li hanno li hanno li hanno convalidati lo stesso quindi non c'è un argine costituzionale prescrittivo e sanzionatorio e allora mi domando se una riforma della costituzione che obbligasse a meccanismi di democrazia interna un congresso del Movimento Cinque Stelle non si è mai visto no? non si è mai visto se non potrebbe rappresentare una adeguata cura per il paese si parto parto da quest'ultima quest'ultima domanda cura mi sembra troppo però potrebbe potrebbe essere un input positivo il perché appunto è vero non abbiamo mai visto un congresso del Movimento Cinque Stelle ma i congressi direi che in generale non vanno più di moda per nessun partito no? Cioè ormai sono eventi eccezionali e pensiamo anche al fatto che non so nel partito democratico che a parte che si chiama democratico ma probabilmente al suo interno è quello che ha le regole più chiare più definite e più democratiche il congresso è stato trasformato in elezioni primarie che non sono esattamente un momento deliberativo sono un momento diciamolo più plebiscitario e forse adesso l'amico Arturo Parisi non sarebbe contento di sentire queste cose però forse dovremmo anche iniziare a riflettere su il pericolo insito in queste forme che che oscillano tra democrazia e plebiscitarismo però a parte questa questa parentesi certo probabilmente se fosse una una norma cogente che deve essere fatta valere costringerebbe i vari attori partitici a comportarsi in modo diverso ma non la farà nessuno perché dovrebbero farla in Parlamento i gruppi parlamentari e quindi i partiti politici quindi ma non è soltanto una battuta dire non la farà nessuno è proprio che in questa fase storica si muovono in maniera così erratica estemporanea oggi cioè pensiamo alla vita del partito democratico prima un'oligarchia poi un partito personalizzato poi era diventato quasi un partito personale oggi è un ectoplasma della cui natura non possiamo più dire nulla perché non dice cose così approfitto per riportare le parole che non sono state smentite di una persona per bene come come del Rio che rispetto a quest'ipotesi di finanziamento proveniente dal Venezuela al Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente detto vabbè ogni partito poi ha le sue dinamiche interne le sue relazioni ecco uno dice vabbè questo partito è morto se il capogruppo mi sembra la Camera dice questo vuol dire che questo partito non esiste più e quindi appunto in questa situazione ma chi 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 tra i partiti vorrebbe mai andare a individuare delle regole più chiare di funzionamento sono tutti un po' e poi tra l'altro hanno tutti questa caratteristica che ha detto la voglio rimarcare questa cosa che ha detto il professor Cassese molto importante che i partiti non sono più legati alla società sono legati allo Stato al famoso cartel party nei nostri libri di scienza politica cioè praticamente vivono di anche se non c'è più finanziamento pubblico ma vivono attaccati alle istituzioni in modo quasi parassitario appunto gli eletti ovviamente hanno gli stipendi eccetera quindi vivono in maniera parassitaria attaccati alle istituzioni possibilmente a quelle di governo che siano a livello centrale che siano a livello regionale o locale e non riescono più a immaginare una loro attività anche libera nella società e quindi anche una vita democratica al proprio interno dove elaborare idee progetti visioni produrre classe dirigente cioè tutto questo che è il corpo vivo della politica dei partiti non esiste più abbiamo sostanzialmente delle cozze attaccate agli scogli stato e che campano specialmente poi quelli appunto legati al governo oggi per esempio il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sono un esempio esemplare scusatemi il gioco di Carter Party che potremmo tradurre in partito cozza a modo suo lo è anche la Lega ovviamente specialmente a livello regionale lo è stato quando era il governo però questi due partiti lo sono in maniera particolare quindi insomma sì sarebbe bello avere un partito 49 un articolo 49 più diciamo normativo prescrittivo ma credo che non lo avremo sulla questione delle riforme e mi leggo anche alle varie osservazioni ovviamente anch'io credo che la carta costituzionale non sia inutile non sia una carta vuota e lo credo specialmente per quanto riguarda il discorso dei diritti quello credo e dell'equilibrio tra i poteri per quanto insomma un poco abbia funzionato però sul discorso delle riforme appunto come diceva Alfonso sì non è non è facile immaginarle non è facile io ricordo per esempio con si ragionò qualche anno fa anche con Guzzetta su e lui ci lavorò giurista e costituzionalista lui però insomma si ragionò con altre persone su come adattare il modello semipresidenziale francese a quell'italiano ma non è facile non è facile perché il modello semipresidenziale francese in parte in piccola parte funziona secondo la norma della costituzione in grande parte funziona secondo prassi e convenzioni e tradizioni diciamo quindi forse non lo so ci sono piccole riforme che forse si potrebbero fare per esempio in parte è stata fatta al Senato ma ancora non alla Camera che riguarda per esempio l'appartenenza dei deputati ai gruppi ma una riforma di sistema che appunto riguardi il rapporto governo-parlamento è estremamente complessa non dico che non si possa fare e io andrei andrei più a lavorare su il potere di controllo del Parlamento sul governo che non su la forza del governo perché il governo la forza se la prende dal partito dalla coalizione di maggioranza che forma la maggioranza perché se c'è una maggioranza coesa ci possono essere degli intoppi nel nostro sistema lo sappiamo il governo debole che è stato costruito in Costituzione ma credo che siano meno importanti della della forza di una maggioranza quindi io diciamo pongo delle questioni aperte ecco non ho delle risposte carissima professoressa noi le siamo gratissimi e io vorrei approfittare questo scorcio di due minuti per rivendicare nei confronti dei nostri iscritti ma nei confronti dell'intera platea politica l'enorme sforzo che più Europa da due anni a questa parte sta facendo per costruire un partito democratico al proprio interno che ha delle regole ha delle regole che rispetta ha degli organi che decidono ha un segretario che non è una persona che si sveglia la mattina e dichiara qualunque cosa ma che ascolta mensilmente la direzione personalmente ho l'onore e il compito di chiedere la nostra assemblea che è l'organo diciamo così sostitutivo del congresso tra un congresso e l'altro ai primi dell'anno prossimo si svolgerà il nostro congresso biennale è un compito difficile perché la democrazia interna a un partito è un esercizio minuzioso paziente e difficile è molto più facile svegliarsi la mattina e decidere quello che faccio in piena libertà tutt'al più telefonando al mio fidatissimo ma noi lo facciamo e mi ha fatto molto piacere l'accenno della professoressa Ventura al tema della dismissione del compito istituzionale che i partiti dovrebbero avere di creare una classe dirigente per il paese che Europa lo sta facendo ic et nunc questi dialoghi il laboratorio liberale democratico sono uno dei contributi di altissimo livello che più Europa sta dando ai suoi iscritti a chi ha deciso appunto di fare politica con noi di proporsi come protagonista della vita politica del cambiamento con noi propone approfondimenti di questo genere lascio che a chiudere sia Marco e a ringraziarla adeguatamente per queste e per le altre volte in cui ha voluto prestarci la sua riflessione e a tutti ricordo che ci vediamo tutti lunedì sera alle 18 per parlare di un articolo della Costituzione Marco salutaci tu nel migliore dei modi e ringrazio la professoressa Ventura come adeguatamente sì io ringrazio te e saluto te come saluto Sofia Ventura che per me non è solo la professoressa Sofia Ventura ma anche un'amica di lunga data abbiamo fatto tante lotte politiche insieme tutte sconfitte abbiamo registrato però il fatto che siamo ancora qui vuol dire che la mia corrente di pensiero che è quella dell'ottimismo tragico è quella che dura nel tempo sono convinto come te che la situazione politica e come tutti noi che la situazione politica oggi abbia scarsa probabilità di migliorare anche a seguito di nuove elezioni ma so anche che in certi momenti della storia patria è bastato che un piccolo numero di persone continuasse a cercare di tenere viva una certa speranza liberale democratica perché poi magari alla fine qualche risultato venisse ottenuto imprevedibilmente questo è il tentativo che noi stiamo facendo politicamente è il tentativo anche di cogliere il momento in cui si presentasse davvero l'occasione per un cambiamento di coglierci che ci colga preparati ad essere non dico protagonisti ma insomma partecipi attivi di quel di quel mutamento che potrà essere in corso sappiamo benissimo che davanti a noi la prospettiva è quella di rischi gravissimi per l'economia e anche per lo sviluppo della democrazia citavo all'inizio il fatto che il governo non intende più presentarsi davanti al Parlamento per ottenere un voto dal Parlamento su questa o quella posizione perché frantumato al suo interno come era la Lega insieme ai Cinque Stelle prima viviamo di maggioranze raccoglitice che si propongono sempre di diventare compatte ma poi in realtà si affidano a un equilibrista come il nostro presidente del Consiglio Conte che in questa funzione riesce perfettamente e oltre al momento non si riesce a intravedere nessuna prospettiva migliore noi continueremo a lavorare e sentiremo le persone che noi riteniamo più intelligenti più aperte più sensibili e più appassionate Sofia Ventura è una di queste ma il professor Cassese è sicuramente un'altra di queste persone e cercheremo via via di sentirle ma sentire anche altre voci nel corso di questo anno che ci siamo dati di lavoro un saluto a tutti grazie grazie mille 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 grazie mille